Vittoria doveva essere, vittoria è stata. La Palacanestro Trapani ieri pomeriggio al Palaconad è stata, se non spettacolare, quantomeno efficace. Una gara gestita fin dall'inizio contro l'ultima della classe Orzi Nuovi, con qualche assenza dovuta al Covid, tra cui l'ex Corbet, che però, come aveva già dimostrato nelle altre gare, ha lottato fino alla fine. Il vantaggio, anche di dieci lunghezze del primo tempo per la Palacanestro Trapani, si è assottigliato soprattutto nell'ultimo quarto, quando la squadra di coach Bulleri si è portata anche in parità. Sarà Simone Tomasini, ancora non al top, ma cinico all'occorrenza, a mettere la tripla del più sei sul finale e sancire così la vittoria dei Granata. 15 punti per lui e doppia cifra per Mollura e i due americani, un po' sottotono massone. Due punti d'oro per i Granata che adesso si preparano alla difficile trasferta di Cantù. Queste le parole di coach Parente al termine del match. Siamo stati bravi all'inizio, poi si è complicata. Tecnicamente direi che la differenza sono state le loro assenze. Punto, fine. Quindi direi che era una partita da controllare emotivamente e tecnicamente è ovvio che con le loro due assenze pesanti le rotazioni diventavano più corte per loro ed è stato tutto più difficile. Quando giochi questo tipo di partite c'è capitato molto spesso a noi di stare in partita 35 minuti, 38 come loro e perdere la fine o qualche volta vingerla. Quindi tecnicamente non c'è nulla da spiegare perché la differenza sono state le assenze, molto onestamente le assenze loro. Emotivamente è una partita difficile, molto difficile da giocare e da interpretare. Molto bene i primi due quarti. Terzo e quarto ci siamo un po' fatti prendere dalla foga. Loro sono stati sempre sul pezzo. Bravi, un po' più lucidi di noi nel finale.